è chiusa ci occorre un'altra chiave volante si sposti la prego leone marini perché questo grande leone marino non ci lascia passare benvenuti alla lezione di navigazione dei leoni marini con l'enuco estate al sole le guance diventano rosse la piccola copiatrice da questa parte è passata indovinate un po' la sua cosa preferita qual è stata? se è tappeto volante avete pensato avete indovinato ma c'è di più se alla porta volete arrivare sui tappeti dovrete saltare in questo caso voglio un altro gelato d'ora idea l'u di l'ai fa fa l'u ama i nip nip sì urrà sì nip nip cibo preferito di l'ai fa fa l'u forse giardiamoli sì nip cibo preferito di l'u